Musica In studio Viviana Sammite Buonasera, l'avete sentito Fratelli d'Italia ha sciolto la riserva sul nome del candidato alla presidenza della regione siciliana e il già presidente del senato Renato Schifani, il nome tra la lista dei tre nomi presentati da Silvio Berlusconi che è una lista arrivata sul tavolo di Giorgia Meloni che ha puntato proprio su Schifani. Facciamo il punto nel servizio di Marco Scavino. Renato Schifani candidato alla presidenza della regione siciliana per il centro-destra. Berlusconi, Meloni e Salvini convergono sull'ex presidente del senato dopo il no secco a Stefania Prestigiacomo Giacomo Berlusconi ha sottoposto a Giorgia Meloni tre nomi, tra questi anche quello del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micicchè. Si era parlato anche di un esterno ma la scelta è stata immediata. Schifani per la Meloni rappresenta l'unica candidatura su cui poter convergere dopo la chiusura su Musumeci da parte di Lega e forse Italia. Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto che per loro infatti il candidato fosse Nello Musumeci. La proposta di Berlusconi alla Meloni restava però l'unico modo per uscire dall'immobilismo decisionale che nelle ultime settimane non ha permesso di scegliere. A chiarire i motivi della scelta avvenuta nel primo pomeriggio di oggi è stato Ignazio Larussa e in qualità di ex presidente del Senato ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti. Meloni ha comunicato a Salvini questa preferenza ancora una volta. Fratelli d'Italia ha concluso Larussa, fa il massimo sforzo per unità del centrodestra anche a scapito delle legittime aspirazioni. Il riferimento ovviamente va alla mancata ricandidatura di Nello Musumeci. Torniamo a parlare del nubifragio che si è abbattuto sull'isola di Stromboli. C'è adesso la fase della pulizia, della bonifica dei luoghi da parte di volontari ma degli stessi cittadini insieme con la protezione civile si scava anche a mani nude. Sara Donzuso. Sommoli si è svegliata questa mattina sommersa dal fango e dai detriti. All'alba si è abbattuto un nubifragio nonché forti raffiche di vento. Un mare di fango ha invaso le strade ma anche le abitazioni private e i locali. In alcuni casi il fango ha raggiunto l'altezza di un metro e mezzo. Fango che ha travolto tutto quello che ha incontrato nel suo cammino. Motorini, macchinette elettriche, motoapi, muri di cinta, piante ma anche i mobili delle case. Come mostrano le immagini in spiagge in mezzo al fango si vedono proprio i mobili. La protezione civile informa di un non ferito per fortuna non grave. Gli abitanti dell'isola chiedono aiuto e puntano il dito contro l'incendio che si è verificato qualche mese fa. La perdita di decine di ettari di coltura ha rovinato la montagna che non è riuscita a trattenere l'acqua. E adesso gli strombolani denunciano le istituzioni che non hanno messo all'assicuro la montagna. Questo quello che ci hanno raccontato stamattina e molti anche a mani nude si sono messi a scavare per liberare case e strade. Io posso dire che stamattina c'è stata diciamo una mezza bomba d'acqua, è durata più o meno un'ora, un'ora e mezza, tra le 5 e mezza e le 7, è stata molto violenta. Io mi trovo nella zona del porto, qua a Stromboli. La prima cosa che ho fatto è cercare di illuminare qualche attrezzo e dare una mano con le vie diciamo più vicine alla zona portuale, soprattutto dare una mano a liberare le case che erano praticamente state tutte impangate. Visto che è arrivata, diciamo in tempi abbastanza brevi, è arrivata la motocadetta della guardia costiera, è arrivata una squadra di pompieri, quindi dirigenti del fuoco, che si sono attivati immediatamente e stanno cercando di liberare come noi volontari le zone chiaramente più a rischio. Raggiunto telefonicamente il vice sindaco di Lipari, Saverio Merlino, ci ha detto che all'alba si è intervenuti con mezzi privati chiedendo aiuto anche alle imprese edili del luogo per cercare di sgomberare le strade e liberare le persone rimaste bloccate nelle case. Alcune ditte si sono dette disponibili ad inviare sull'isola subito diversi bobcat. Arrivati sull'isola sia la Capitaneria di Porto che i Vigili del Fuoco che insieme ai volontari della Protezione Civile stanno lavorando per riportare un minimo di normalità nell'isola, dove tra l'altro ci sono migliaia di turisti. Riteniamo inaccettabile, dicono Cristian Del Bono, presidente dei federalberghi Isole Olie, e Rosoliva, presidente della Proloco Amo Strommoli, che il Dipartimento e lo Sviluppo Rurale e Territoriale, ente e gestore della riserva naturale orientata dell'isola di Strommoli e Strommolicchio, sia rimasto totalmente inerme in tutti questi mesi. Chiediamo a questo punto un'ordinanza urgente di protezione civile, proprio per realizzare gli interventi necessari a mettere in sicurezza l'abitato e i sentieri dell'isola, attrazione turistica imprescindibile per l'isola di Strommoli. La protezione civile regionale sta predisponendo tutti gli uomini e mezzi in campo per poter accelerare l'operazione di bonifica dei luoghi. Ha messo a disposizione anche un elisoccorso per chi avesse bisogno di cure mediche per arrivare all'ospedale di Lipari. Allora facciamo il punto in questo servizio. Il sistema di protezione civile regionale si è attivato sin dalle prime ore di questa mattina per arginare i danni e ripristinare i luoghi dopo il nubifraggio che ha colpito Strommoli. In campo volontari le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Lipari e Vulcano, è una motovedetta con venti volontari del Dipartimento. Sono previsti nuovi rinforzi come stabilito dal dirigente della protezione civile regionale Salvo Coccina. Domani mattina partiranno dei ulteriori mezzi Bobcat per spalare il fango e la sabbia, ma tenete conto che già sono in azione i Bobcat erano su Stromboli che sono 5 oltre 5 o 6. Si conta attualmente un ferito, un signore che è rimasto intrappolato in casa, ha rotto il vetro della porta ferendosi. È stato predisposto al trasferimento all'ospedale di Lipari così come avverrà con altri stromboliani che hanno necessità di cure mediche. Non aiutano le condizioni meteo delle prossime ore. Sono infatti previste nuove precipitazioni, ma il capo della protezione civile rassicura sui tempi di bonifica dell'isola. La situazione penso che dovrebbe migliorare a meno che non ci siano ulteriori precipitazioni che ahimè sono previste. I luoghi sono già in corso di ripristino. Non è il momento di fare polemica, ha risposto Salvo Coccina in merito alla denuncia di federalberghi Isole Olie e Proloco Amo Strommoli che hanno denunciato una situazione di abbandono in cui è stata lasciata la montagna di Strommoli dopo l'incendio del maggio scorso che ha bruciato una vasta porzione di macchia mediterranea arrivando a colpire alcune case e colture. Sicuramente l'incendio ha aumentato le condizioni di rischio, le condizioni predisponenti allo scivolamento della sabbia e delle pietre dai fianchi del vulcano che di per sé sono ripidi. Ripiantare subito gli alberi a Strommoli, soprattutto la specie che garantisce a trattenere l'acqua. L'abbiamo parlato con il Presidente dell'Ordine dei Geologi di Sicilia alla luce di quanto accaduto a Strommoli. Su quanto accaduto a Strommoli e soprattutto sugli interventi che potrebbero essere messi in atto per prevenire disastri di questo genere abbiamo sentito il Presidente dell'Ordine dei Geologi di Sicilia Mauro Corrao che evidenzia come più volte sono stati lanciati dei gridi d'allarme che però sono rimasti inascoltati. Quando le piogge sono molto intense e con ruscellamenti selvaggi è chiaro che non hanno il tempo di drenare nel sottosuolo e se non c'è un arresto da parte anche di vegetazione che rallenti i ruscellamenti, quello che succede è quello a cui abbiamo assistito qualche ora fa all'isola di Strommoli. Quello che si può fare è sicuramente riattivare tutte quelle che sono le vegetazioni puntando su alberi e piante che addirittura vanno a miticare, a rallentare, a trattenere i versanti e le coltri superficiali dei gridi e chiaramente manutenzionare tutto quello che riguarda le parti più acclivi di un'isola selvaggia. Questo è l'ennesimo risultato di rinviare sempre quelli che sono problemi che si possono affrontare in maniera preventiva che già si conoscono, si sa come intervenire, ma purtroppo ci sono una serie di problemi legati al danaro, alle leggi, alle normative, alle azioni. Nel caso di Strommoli anche ai periodi che interessano l'aspetto turistico, che poi portano e alimentano anche le casse e la sopravvivenza di queste isole. Quindi sono una serie di fattori che sicuramente poi contribuiscono a rallentare le azioni che dovrebbero essere fatte preventivamente per evitare il peggio. Ancora temporali, ma da domenica dovrebbe esserci già un miglioramento. Ancora qualche giorno di maltempo in Sicilia e solo dalla vigilia di Ferragosto potremmo assistere a un miglioramento. È quello che dicono gli esperti dopo la violenta onnata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia tra ieri e oggi. Ancora qualche temporale e poi di nuovo il sole. Nel corso delle prossime ore il tempo continuerà a rimanere spiccatamente stabile, soprattutto lungo l'area tirrenica, dove ci sarà il rischio di nuovi improvvisi rovesci e anche dei temporali. La situazione dovrebbe migliorare solo la vigilia di Ferragosto, quando la pressione atmosferica tornerà a risalire e avremo una stabilizzazione della colonna d'aria sopra la Sicilia. Con l'ingresso delle prime vere perturbazioni atlantiche sul bacino del Mediterraneo, che presenta temperature anomale di ben 4-5 gradi superiore alla norma, si tratta di un'anomalia davvero eccezionale. Quindi all'ingresso della prima perturbazione quest'ultima rischia di potenziarsi, di diventare particolarmente violenta, dare origini a fenomeni estremi, non solo riguardo le precipitazioni, ma anche riguardo alla possibilità di vedere degli eventi vorticosi, ossia trombe d'aria, tornado, ma anche forti raffichi di vento e altri fenomeni sempre collegati con i temporali. Come ogni sera vediamo il bollettino aggiornato con i dati Covid nelle ultime 24 ore in Sicilia? In Sicilia i nuovi casi di positività al Covid-19 sono 2.212. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.255 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano 2.446. Il tasso di positività è al 15.5%, in diminuzione rispetto alle precedenti 24 ore, quando si accertò il 16.5%. La Sicilia è comunque al quarto posto per contagi. Le persone attualmente positive sono 115.864, con un decremento di 854 casi. Le persone guarite sono 3.050 e 16 sono le vittime. 11.880 i decessi dall'inizio della pandemia. Sul fronte ospedaliero le persone ricoverate sono 775, 47 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. In terapia intensiva 2 ricoveri in meno, per un totale di 36 posti letto occupati. A livello provinciale si registrano a Palermo 490 casi, 450 invece a Catania, 409 a Messina. A Siracusa 146, a Trapani 188, a Ragusa 129, a Caltanissetta 92, ad Agrigento 179 e 129, ad Enna. Gli orrori in un centro sociosanitario nel Catanese. È stato scoperto dalla squadra mobile di Catania dopo la denuncia di un familiare, di un anziano ospite che è arrivato al pronto soccorso con una frattura ed una prognosi di 30 giorni. Alla fine è stato scoperto che la direttrice di questo centro picchiava, vessava gli anziani e diversamente abili. La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari. In questo video un'anziana si dirige verso il lavello per prendere un po' d'acqua col bicchiere in mano. Quando arriva la direttrice della casa di riposo e comincia a gettare l'acqua corrente sulla testa della donna, offendendola con frasi registrate dalle telecamere installate dagli inquirenti. «Io ne ho viste femmine maleducate, ma non come a te. C'è il Signore che ci pensa. Magari ci pensasse il Signore. Io maleducate ne ho viste, ma non come a te. Hai tutte le forme di un animale, tutte precise. È solo una delle tante vessazioni che subivano gli anziani, diversamente abili ospiti, di una struttura sociosanitaria nel Catanese. La direttrice, una 62enne, è stata arrestata e posta ai domiciliari. Secondo le fonti di prova acquisite, la 62enne colpiva con schiaffi e spintone gli ospiti, ricorrendo ad ingiuri, umilazioni, fino alla violenza fisica. Se un anziano disobbediva, veniva punito con il divieto di pranzare con gli altri e lui veniva in posto di rimanere a letto senza fare colazione. Gli orrori consumati in quella struttura sono emersi grazie alla denuncia sporta da un familiare che si è accorto dei maltrattamenti e danni di un congiunto, al quale i sanitari del pronto soccorso hanno diagnosticato una frattura vertebrale con una prognosi di 30 giorni. Le indagini in breve e intensa hanno permesso di appurare che l'indagata era responsabile dello stato di prostrazione, soggezione e sofferenza nelle persone affidate alle sue cure, particolarmente vulnerabili per età e anche per la circostanza di essere lontane dai propri familiari e quindi anche indifesi. Il primario di cardiochirurgia al Policlinico di Catania, Carmelo Mignosa, è stato arrestato con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta a eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta dal PM Fabio Regolo. A conclusione di un'indagine condotta dal procuratore, Carmelo Zuccaro, è stata la Guardia di Finanza. L'inchiesta riguarda la gara d'appalto per la fornitura di materiale specialistico per cardiochirurgia bandita lo scorso 25 marzo dall'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico, San Marco di Catania. Adesso un'operazione antidroga nell'isola. Operazione antidroga in tutta la Sicilia. I carabinieri a Palazzolo a Creide hanno arrestato e posto ai domiciliari fratello e sorella per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due di 35 a 37 anni durante la perquisizione nella loro abitazione sono stati trovati in possesso di circa 110 grammi di cocaina purissima, 2 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, oltre a circa 1000 euro di denaro contante trovate all'interno di un borsello nell'armadio delle camere da letto. Nel palermitano invece è stata scoperta una piantagione di cannabis. Piante alte circa 2 metri, 49 in totale, sono state scoperte dai carabinieri in un terreno nel quartiere Villa Grazia a Palermo. Un uomo di 24 anni, proprietario del terreno, è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La cannabis, una volta essiccata e dimmessa nel mercato della droga, avrebbe potuto frottare diverse centinaia di migliaia di euro. Il GIP ha convalidato l'arresto e per lui è scattata anche la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo. A Catania, invece, un ventenne ha spacciato seduto su una panchina ed è stato intercettato dalle forze dell'ordine che, attraverso le indagini, sono riuscite a risalire anche al suo fornitore. I carabinieri, infatti, hanno denunciato il ventenne spacciatore mentre il fornitore, di 23 anni, è stato arrestato. Al pusher sono state trovate 11 dosi di marijuana, 8 di hashish e la somma contante è di circa 490 euro ritenuta a provento dell'attività illecita. Al fornitore, oltre 700 euro e 118 buste contenenti marijuana, peso complessivo di circa un chilo e mezzo, 7 dosi di hashish di diverso taglio, di 530 grammi circa, e 6 dosi di cocaina, di 10 grammi. C'è un totale disinteresse da parte dei giovani alla tutela dell'ambiente, dei luoghi comuni e questa la denuncia di una residente della zona di Piazza Europa a Catania che ogni sera assista a scorribande di ragazzi che gettano rifiuti, sparano anche fuochi d'artificio non curanti delle persone presenti. Facciamo il punto nel servizio. Sabato siamo stati in Piazza Europa per parlare di una bella iniziativa legata alla pulizia straordinaria messa in campo da un gruppo di volontari per sensibilizzare all'assenso civico e restituire un angolo e la città più pulito. Ritorniamo oggi, praticamente sette giorni dopo, e la fontana, seppur non sporca come sabato scorso, ha qualche detrito di vetri. Questo perché qui la sera si ritrovano i ragazzi che cominciano a gettare le bottiglie di vetro così come denunciano i residenti che sottolineano anche come la piazza venga regolarmente pulita ma poi la sera arrivano questi ragazzi incivili che sporcano tutto. Vedo sempre che vengono a pulire e c'è l'operatore che si mette proprio dentro la fontana per pulire tutto. Però la sera di nuovo cominciano il lancio delle bottiglie, scorrerie di motorini con tutto quello che poi comporta schiamazzi e tutto il caos che viene fatto. Voi siete disposti a fare un esposto affinché ci sia un presidio costante alle forze dell'ordine? Allora io l'esposto, io personalmente l'esposto lo farò. Io ho fiducia nelle forze dell'ordine, ho fiducia nelle istituzioni e ora contavo di fare un'altra lettera al nuovo questore perché così non si può continuare. Ho constatato mille volte che questa piazza la sera diventa un luogo abbandonato a se stesso. L'amministrazione comunale intanto ha pubblicato il bando di gara per appaltare i lavori di esecuzione della riqualificazione proprio di Piazza Europa eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche e realizzando attrezzature sportive e ludiche per i bambini. La grande fontana al centro di Piazza Europa d'intesa con la sovrintendenza verrà completamente rigenerata salvaguardando l'attuale forma realizzata negli anni 60 del secolo scorso. Lotta contro l'abbandono di rifiuti nelle spiagge tra l'altro all'indomani della notte di San Lorenzo gli arredi degli stabilimenti e dei lidi sono stati trovati, rovinati da chi ha frequentato la spiaggia in questi giorni ed è un tema, quello del degrado nelle spiagge è sempre più attuale. Facciamo il punto nel servizio di Giada Giacquinta. Il San Lorenzo appena trascorso è stato tranquillo dal punto di vista dei controlli delle forze dell'ordine non si sono registrati interventi per reati penali tuttavia all'indomani le spiagge, alcune spiagge si sono ritrovate con dei danni e piene di rifiuti. E come sul piano nazionale la questione è stata sollevata dagli ambientalisti che è critica nel Giova Beach Party anche in territorio nello specifico di Ragusa le istituzioni hanno segnalato due episodi a Scoglitti e a Marina di Ragusa. Abbiamo raggiunto uno dei ristoratori che segnalano una situazione di degrado non solo dopo la notte di San Lorenzo. Proprio quest'anno abbiamo un degrado proprio a livello di ragazzi che non hanno rispetto soprattutto per il posto dove loro vivono e stanno. La notte di San Lorenzo è stata devastante perché hanno lasciato l'infinito tutta la possibile tra bottiglie, bottiglie di pasta scritta, cartoni di pizza, eccetera. Poi quando ti rispondono pure questa è spiaggia pubblica e facciamo quello che vogliamo questo è il risultato del degrado che ci sarà negli anni a seguire. È intervenuto qualcuno? Sì, abbiamo chiamato per quel giorno le forze dell'ordine giustamente loro dicono sono in una spiaggia pubblica non possiamo fare niente. Il problema è che bisogna arginare questo problema perché non è giusto neanche a livello turistico le persone che passeggiano magari in prima mattinata e vedono lo scempio che lasciano questi ragazzi. Ripeto, ci sono i secchielli per buttare l'imbondizia ma non vengono utilizzati rimangono sempre vuoti. C'è una breve pausa pubblicitaria torniamo da voi tra pochissimo dopo. Ancora ben trovati nel studio per la seconda parte di MTG la Caritas non si ferma neanche a Ferragosto sarà infatti garantita anche la distribuzione dei pasti non soltanto a Ferragosto ma proprio per tutto il periodo. Vediamo questo servizio. La solidarietà non va in vacanza la Caritas di Ocesana di Catania infatti oltre a garantire un servizio costante per tutto il mese di agosto non si ferma neanche nella giornata di Ferragosto garantendo il supporto alle persone più fragili e vulnerabili grazie anche al sostegno dei fondi e l'otto per mille della Chiesa Cattolica. I volontari e gli operatori all'organismo di Ocesano mantengono dunque attivi servizi e il centro di ascolto della mensa e il gruppo appartamento e del centro per la cura e l'igiene della persona. All'help center della stazione centrale in piazza Papa Giovanni XX si prosegue con la quotidiana distribuzione del pranzo dalle 12 alle 13.30 inclusa la giornata di Ferragosto. Ormai sono circa 700 gli interventi alimentari effettuati giornalmente dai volontari considerando i pasti preparati in cucina e gli altri prodotti di prima necessità per la colazione e per la cena. E poi un presidio costante permesso anche dalle donazioni alimentari settimanali della Caritas Carmelitana italiana e dalla generosità di numerosi benefattori forze dell'ordine parrocchia enti pubblici attività commerciali associazioni del terzo settore e privati cittadini garantita anche la distribuzione di altri beni e alimenti per tutti coloro che necessitano di un ulteriore supporto per la presenza di minori. La solidarietà è un concetto proprio di famiglia e quindi la famiglia non va mai in vacanza c'è sempre un'opportunità che diamo non solo ai nostri fratelli e sorelle ma sono l'opportunità che loro danno a noi quindi non vogliamo e non possiamo esimerci dal concetto di famiglia e quindi della solidarietà. La mensa e tutti gli aiuti alimentari per le mamme e i bambini arrivano a questi numeri ahimè una media di 700 interventi alimentari al giorno. Continueremo sempre a offrire i nostri volti a offrire tutti gli aiuti materiali e offrire in particolar modo il nostro aiuto invisibile che è quello di uno sguardo di un ascolto di quello di sentirci prossimi ed essere prossimi con gli altri affinché anche noi possiamo avere molto di più rispetto a quello che diamo. Ha fatto tappa anche a Marina di Modica all'Auditorium Mediterraneo e l'Infinito Tour di Roberto Vecchioni. Cantautore paroliere scrittore poeta Roberto Vecchioni ieri sera sul palco dell'Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica nell'ambito del suo Infinito Tour che definisce non un semplice concerto per promuovere l'Infinito il suo ultimo album di inediti uscito nel 2018 ma uno spettacolo che tra musiche e parole tra canzoni più recenti e successi intramontabili è riuscito a raccontare la sua versione di Cos'è la bellezza. Un album di vita un album che dice non arrendiamoci mai un album che è contro il destino un album che non parla solo di me finalmente ma parla anche di persone che hanno battuto il male hanno sconfitto gli errori del potere eccetera eccetera e poi perché c'è dentro l'Infinito di Leopardi rivoltato come un guanto perché invece del dolore nell'Infinito c'è la speranza della gioia guarda che cosa strana. Forte legame anche con la Sicilia culla della cultura antica. Sicilia è l'habitat ideale la Sicilia è magna grecia quindi è perfettamente in sintonia con quello che è raccontato in quest'album che è un album che parla dell'antichità come qualcosa di presente assolutamente presente oggi. Il professore uomo di estrema cultura e sensibilità è riuscito a trasmettere emozioni sincere con melodie evocative testi poetici e suggestivi accompagnato da una formazione storica composta da Massimo Germina alla chitarra cussica Antonio Petruzzelli al basso Roberto Gualdi alla batteria dal maestro Lucio Fabri al pianoforte e violino. La musica è fondamentale nel caso di un poeta come Roberto si merita il massimo che possano fare dei musicisti diciamo esperti come siamo noi noi suoniamo con lui dal 2011 io in particolare suono in realtà dagli anni 70. Il concerto è stato uno degli appuntamenti più attesi del cartellone 2022 di In Teatro Aperto la rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. È l'evento clou della stagione In Teatro Aperto un evento al quale abbiamo lavorato da parecchi anni per poterlo realizzare e la soddisfazione è che c'è un'area palpabile di bellezza c'è una serata di tanta attesa c'è il pubblico delle meraviglie non c'è un posto libero. Atleti ciclitani porteranno alta la bandiera del Judo in ambito internazionale noi li abbiamo incontrati. Passione grinta disciplina e tanto allenamento sono ingredienti fondamentali per i risultati ottenuti in campo agonistico dagli atleti del maestro Maurizio Pelligra impegnati questo mese nei campionati mondiali di Judo a rappresentare l'Italia a livello intercontinentale. Tutti i giorni si allenano circa due ore al giorno come Judo e in estate addirittura facciamo quattro ore al giorno di Judo più la preparazione atletica. Loro si allenano da quando erano piccolini sono nati come Judo nella palestra Basaghi di Ragusa poi dopo alcuni anni sono passati con la Koizumi Scicli da circa quattro anni sono qua con me hanno fatto un bel po' di risultati la russosa vita addirittura avrà a suo attivo un 5-6 medaglie d'oro fra campionati italiani e l'European Cup e mentre Vincenzo Pelligra giudoca anche lui che si allena a Scicli reduce da un grave infortunio al ginocchio ha gareggiato ieri in Ecuador al campionato mondiale junior guadagnando un nono posto dopo aver sfidato il temuto avversario giapponese Savita Russo e Danilo Articolo entrambi di 17 anni gareggeranno i mondiali cadetti il 26 agosto a Sarajevo dare il massimo di me stesso per questo mondiale cosa succede quando stai per salire sul tatami in occasione di una gara cosa passa per la tua testa riuscire a spiegare quello che si prova quando si va sul tatami ma comunque ricerco la massima concentrazione e penso a quello che mi dice il mio maestro riuscire a concentrare e poi quando salgo sul tatami devo riuscire a fare quello che provo in palestra tanta l'emozione anche per Savita Russo che a causa della positività al coronavirus ha dovuto recentemente rinunciare agli europei sono molto emozionata perché comunque è la prima volta che vado a fare un mondiale quindi spero di poter dare il massimo è difficile conciliare la scuola gli studi e anche la vita privata gli amici con questo tipo di allenamento eh sì diciamo che è abbastanza cioè se c'è comunque la passione comunque se lo fai compiacere ti viene tutto più semplice più facile dicono che le ragazze siano il sesso debole tu invece dimostri il contrario giusto? no infatti non siamo più deboli come gli altri siamo come maschi picchi forti sì è tutto con questo servizio grazie per averci seguito a tutti voi ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti